La cosa da ricordare perfettamente è peso a valle e sci a monte avanzato Casco arciato, gli occhiali, via Alla prossima lezione, puntuali Olimpiadi di Vancouver su Sky Il commento tecnico è firmato dal grande mitico, nostro maestro di sci personale, Christian Ghedina E adesso su Benvenuti a Cortina, intervista doppia da una parte Eddie De Menego, dall'altra Andrea Gaspari Due generazioni, due artisti scultori davvero eclettici Eddie De Menego Andrea Gaspari Soprannome Zero Sto pensando ma non c'è Che mestiere fai? Lo scultore, scenografo, organizzo cose Il pittore Presentati con un aggettivo Cossenzioso Spero imprevedibile Qual è la mostra più bella che è stata fatta a Cortina d'Ampezzo? Resterei comunque nell'ambito del museo delle regole Quella su di Scoiattoli mi è piaciuta molto Artisticamente sei bravo A far divertire Diciamo nell'informale La tua opera più importante Quella che farò Devo farne una, c'è una in testa, è quella lì È una scultura in ferro Ho cercato col ferro di ingentilirlo a tal punto di fare una donna molto aggraziata Cortina d'Ampezzo è Casa mia Centro dell'arte diciamo sia sul legno che sulla neve Sposato, fidanzato, single per colpa di lei? Sposato Sposatissimo con Paola Figli di Giorgia di 13 anni e Pietro di 9 A Cortina organizzato Molte mostre d'arte, diversi concorsi Il primo concorso di sculture su ghiaccio Concorsi di sculture in neve Concorsi di spaventapasseri Tre minuti in cui la gente è rimasta ferma Che non è da poco Il più grande artista cortinese Dezzanna è bellissimo e mi piace moltissimo Credo che i fratelli Ghedina siano i migliori Alexander Girardi è Fantastico È un signore che a Vienna ha spopolato quella volta Una scultura è Deve essere emozione L'essenza dell'arte Un dipinto è La stessa cosa È una cosa completamente diversa Si danno delle espressioni diverse Favorevole o contrario? Internet Assolutamente favorevole Favorevole La prostituzione Ho dei dubbi Contraria Le droghe leggere Contraria Semifavorevole Berlusconi Favorevole Favorevole Il sindaco di Cortina Favorevole Favorevolissimo La scatoletta di cacca Di manzoni Non mi interessa Anche quella ha avuto il suo perché E quindi favorevole Sgarbi Non rientrano le mie simpatie Favorevole I rompiscatole mi piacciono Chissà perché D'arte di strada Ho dei seri dubbi sul suo valore Favorevole I pupazzi di neve Sono di una simpatia unica Io devo metterne 100 in fila Quindi devo essere per forza favorevole Caro sindaco Continuo a darmi corda Perché vedrai che ne farò di belle Continuo così Specialmente sulla cultura Che vai bene Quali sono i musei a Cortina Museo delle regole La Pinacoteca Rimoldi Non dimenticherei mai Le nostre gallerie d'arte Chi ti ha insegnato A diventare un artista Mio papà Di Zulian Un acquarellista fantastico Domani vorrei Che il concorso di sculture di neve Finisse in gloria Come si dice Continuare a poter dipingere tranquillamente Impara l'arte E mettila da parte Sì ma tirala fuori quando ti serve La massima sempre valida Andrea Gaspari È un bravo artista Eddie De Menego È un pioniere Ed è la scultura in neve a Cortina Quindi bisogna ringraziarlo Manda a quel paese Eddie Eddie Vate fecià Manda a quel paese Andrea Ritorna a Cortina Imita un ladino C'è vostro che te dighe Basta parlare Ed ora un bolzanino Questo sì che è un bello ragazzo Vi presento Eddie E per chiudere Un romano Viva Roma È sempre bella Ma quando che la finiamo questa intervista? Devo annaio Ciao la trippa Che mi aspetta L'abbacchio Grazie Ciao Grazie a te Ciao Salve Grazie a voi Grazie Dopo le parole Andiamo a vedere cosa riescono a fare questi scultori con la neve Arte ghiaccio il concorso di Cortina D'Ampezzo Il servizio è firmato da Alessandro Manaigo Il nostro operatore quello che è di là della telecamera Il servizio è firmato da Alessandro Il servizio è firmato da Alessandro Alle mie spalle quel serpente bianco che vedete è la mitica pista olimpia delle Tofane Dove da più di 15 anni si svolge un appuntamento mondiale attesissimo Soprattutto dal circo bianco rosa al femminile La coppa del mondo di sci femminile Il servizio per raccontarvi questa manifestazione Un altro biglietto da visita importantissimo per la candidatura di Cortina D'Ampezzo Ad ospitare i mondiali di sci alpino del 2015 è firmato da Alessandra Segafreddo Una F2D A voi la linea L'Olimpia delle Tofane La pista della coppa del mondo di sci femminile di Cortina Quest'anno per la prima volta è stata illuminata a giorno Un'emozione nuova e unica Una magia che ha fatto alzare gli occhi a tutti verso le Tofane Tre giorni di splendido sole hanno fatto da cornice alle atlete in piste alle migliaia di tifosi A Rumerlo, dove come ogni anno c'era il traguardo Una nuova tribuna ha accolto i fans che con bandiere, striscioni, trombette e canti Hanno esultato per le loro sciatrici preferite Una nuova zona VIP per gli ospiti Uno chalet per il pubblico Tutto a ritmo di musica Originale la consegna dei pettorali alle atlete Ossia il pick up Altra novità la festa dello sport che si è svolta in centro Sulle note del corpo musicale di Cortina hanno sfilato tutte le realtà sportive ampezzane Varie prove di abilità hanno impegnato i coach delle squadre E a vincere è stato l'allenatore del Canada Dal campanile e della parrocchiale si sono calati alcuni scoiattoli, le guide e Mr. Coach Ossia il miglior allenatore eletto dalle atlete Il bilancio della Coppa del Mondo è più che positivo Un bilancio di questi tre giorni di Coppa del Mondo di cinque femminile è senza dubbio positivo Sotto moltissimi aspetti, prima di tutto come organizzazione E non come risultato delle atlete che solamente due su cinque giorni tra prove e gara si sono fatte male Devo dire grazie all'aiuto di tutti Bilancio positivo devo dire anche perché la Federazione Internazionale ha apprezzato il nostro sforzo Lo si vede al traguardo, lo si vede com'è posizionata la tribuna, la tenda VIP Tutta la parte diciamo così nuova Credo che l'abbiamo ottenuto al 95% Abbiamo avuto in più quest'anno la fortuna del tempo La parte innovativa oltre al traguardo ce l'abbiamo in centro In centro abbiamo fatto, abbiamo voluto fare la prova di questo tendone Che per certi versi è stato spettacolare Le manifestazioni di contorno che sono state fatte per propagandare e pubblicizzare Prima di tutto la candidatura ai campionati del mondo del 2015 Sono state molto importanti, sono state interessanti e molto molto apprezzata Fare il presidente della Coppa del Mondo è sempre un orgoglio Uscita nel Super G e 27esima nella Libera L'atleta ampezzana Wendy Sirpaez Che ha gareggiato con il logo di Cortina e lo scoiattolo rosso incisi sul casco Ha purtroppo compromesso la sua partecipazione a Vancouver Everyone's Candidate Ossia tutti siamo candidati Recita lo slogan della candidatura di Cortina per ospitare i mondiali di sci alpino del 2015 Il banner di Cortina 2015 erano presenti in tutto il paese Sulle piste, la zona del traguardo, in centro, lungo le strade Insomma abbiamo voluto dare una grossa visibilità a questo progetto E credo che appunto la collaborazione che c'è stata tra Comitato 2015 Associazione Permanente come il mondo e tutto il sistema paese nel suo complesso Abbia fatto vedere una Cortina di livello Quindi in bocca al lupo a Cortina E incrociamo le dita e mandiamo anche un saluto ai nostri amici Sempre più numerosi di Benvenuti a Cortina Ciao Everyone's Candidate Anche noi di Benvenuti a Cortina siamo candidati ad ospitare i mondiali di sci alpino del 2015 O 2017 Vedremo, è tutto per questa puntata di Benvenuti a Cortina Il magazine di Cortina Danpezzo vi dà appuntamento al 19 febbraio Da questa parte della telecamera Andrea Gris Dall'altra parte della telecamera Alessandro Manaigo In redazione Alessandra Segafreddo una F2D Vi augurano un buon proseguimento di serata Noi ci rivediamo il 19 febbraio all'assessore Ricordate signore, signori, nonne, nonni, bambine, bambini, ragazze e ragazzi Che a Cortina Danpezzo siete sempre benvenuti SIGLA Grazie a tutti Grazie a tutti